Ben tornati su Ciper TV, venerdì la settimana si chiude con un unwrap di 20 minuti, quest'oggi avremo quindi in 20 minuti 50 wall ball, 40 box jump, 40 toss to bar, 30 chest to bar pull ups, 30 burpees, 20 cleans, 20 jerky, 10 snatch, 10 rim muscle up, direi che è un WOD veramente molto articolato per chiudere la settimana. Noi ci rivediamo lunedì, come al solito sulla grafica qui di fianco trovate tutte le informazioni relative al WOD, seguiteci anche sui nostri canali social e buon fin di settimana.